Ok, ciao a tutti, andiamo avanti con il problema numero 2 dell'anno 2019, quindi è di natura elettromagnetica, quindi viene detto una superficie piana disposta verticalmente di materia isolante e caricata con densità superficiale uniforme sigma, una sfretta dello stesso materiale a massa m, questa qua, carica questa, quindi carica positiva tra l'altro, ed è sospesa a un filo isolante che forma un angolo di α 30 gradi con la verticale, quindi così, come figura, e si trova nel punto P a distanza 30 cm da un'altra. La lastra ha la dimensione molto maggiore di D e la sfretta è molto lontana dai bordi della lastra, il tutto in condizione di equilibrio, quindi queste tre affermazioni che sono state fatte, le prime due, ci dicono che possiamo trascurare gli effetti di bordo, perché essendo che la lastra è molto grande, qua tipo il campo elettrico è grossomodo quello di un piano infinito, la seconda cosa invece è la solita condizione molto importante che mi va a imporre delle limitazioni molto forti e che mi permette di risolvere il sistema perché sono in condizione di equilibrio. La prima domanda è determinare il campo elettrostatico generato dalla lastra piana nel punto P. Quindi come accennavo, il campo elettrico lo assumo a quello di un piano con carica infinita, scusate, un piano infinito con carica, vabbè, si infinita diciamo, ma densità di carica finita. Quindi in generale se sigma è maggiore di zero avrò questo tipo di allenamento, quindi le linee di campo sono a destra verso destra e a sinistra verso sinistra. E inoltre queste linee di campo, il campo elettrico non dipende dalla posizione che è la cosa un po' particolare del piano infinito di carica. Quindi il campo elettrico in particolare è dato da sigma diviso due epsilon, quindi qua nella direzione x a destra e nella direzione meno x a sinistra. A questo punto quindi mi è chiesto di trovare il campo elettrostatico generato dalla lastra, quindi quello che mi serve fare è capire sigma, no? Però per capire sigma quello che faccio è utilizzo la condizione molto importante di equilibrio. Quindi quello che so è che su questo corpo qua, che è in equilibrio, agiscono delle forze, in particolare agisce la tensione, la forza di gravità e la forza elettrica verso sinistra. Dico subito verso sinistra e qua in realtà non è ovvio, perché in realtà qua essendo verso destra e la carica più positiva dovrebbe essere verso destra, ma osservo subito che se la tensione è verso destra e la forza elettrica è verso destra, non c'è niente che mi bilancia queste forze qua. Quindi la forza deve essere a sinistra in maniera tale da bilanciare la tensione t. A questo punto quindi so già subito che sigma è minore di zero, quindi una prima cosa la conosco subito. Quindi per l'appunto sigma è minore di zero e a questo punto utilizzo la mia condizione di equilibrio, quindi seconda legge di Newton è la somma delle forze uguale alla massa per accelerazione e l'equilibrio vuol dire che la accelerazione è zero e quindi U è uguale a zero. Quindi la somma delle forze deve essere nulla. A questo punto quindi quello che faccio è un bilancio di forze lunghi due vari assi, quindi l'asse X e l'asse Y. Sull'asse X ho T seno di alfa, dove questo è l'angolo, quindi qua c'è l'angolo alfa, la componente X è questa, quindi uso il seno, quindi T seno di alfa, meno la forza elettrica che è già in direzione X, dove meno tengo conto del fatto che è verso sinistra, quindi questa qua è un'equazione di moduli. Poi Y, lungo Y ho sempre T, quindi T coseno di alfa, perché è questo lato qua, meno MG, che è la forza gravitazionale. A questo punto a me interessa sigma, quindi la T posso buttarla via dividendo, quindi porto dall'altro lato questi qua e divido. Dividendo T si semplifica, io ho seno di alfa diviso cos'alfa e dall'altro lato ho Fe diviso MG. Ora la forza elettrica che cos'è? È la carica per il campo elettrico. O volendo posso anche esplicitare il campo elettrico come sigma diviso due epsilon. E a questo punto quindi ho questa relazione qua, quindi tan alfa è uguale a questa cosa qua. In realtà questo è anche un po' troppo, perché mi chiedeva il campo elettrico, quindi mi posso fermare in realtà anche a questo step intermedio, quindi carica per il campo elettrico E. Quindi, se chiamiamo Q per E diviso MG, quindi a questo punto inverto la relazione esplicito per il campo elettrico. Ah, per l'appunto l'ho scritto anche qua sotto. Quindi questo qua va dall'altro lato e mi rimane che il campo elettrico è esattamente questa cosa qua. A questo punto il punto numero due mi chiede calcolare la densità sigma. Quindi faccio uso di questo per appunto questa relazione qua. Quindi sigma cosa sarà? Sarà il campo elettrico, lo posso scrivere come per appunto questa cosa qua. E il due epsilon lo porto dall'altro lato. Quindi uso la stessa relazione di prima per esplicitare anche sigma. Dove qua però faccio attenzione a una cosa. Sigma in questa maniera qua mi è venuto, osserviamo anche il campo elettrico, mi è venuto che sono positivi. Quindi questo, vabbè, per il campo elettrico forse è ancora peggio un problema, però sicuramente per sigma è sbagliato. Il motivo è che, vabbè, sigma abbiamo subito detto che era negativo e il campo elettrico abbiamo subito detto che non era in realtà così ma era nel verso opposto. Quindi qua in realtà essendo un modulo me la posso magari cavare e dire, vabbè, sì, è positivo. Se vogliamo essere più precisi, il campo elettrico cosa sarà? Sarà questa cosa qua, quindi mg diviso q tan di alfa. E la direzione cosa sarà? Sarà meno ed x. Ok? Quindi questa è la risposta, diciamo, più formale. E a questo punto segue anche che sigma devo correggerlo. E in particolare qua posso metterli, volendo anche tipo un meno a mano, dicendo, vabbè, in realtà sigma l'ho trovato inizialmente che era negativo, quindi meno questa quanta qua. Il meno in realtà poi deriverebbe da fatto che... da equazioni vettoriali, così via, però, nel senso... Però appunto l'ho già assorbato, quindi posso anche imporlo io a mano. Cioè, in realtà deriva dal fatto che ho trattato sigma e mi era un po' improprio, dicendo che era positiva, essendo generica, però... Però, nel senso, posso farlo anche un po' io a mano, così. Quindi, comunque, all'istante t0 il filo si rompe, ok? Quindi ho la sferetta che è nel vuoto, cioè, niente la tiene ferma. E mi ha detto, dettacca la proiezione ortogonale di P sulla lastra, quindi questo punto qua. Determinare a che distanza h da h, da h grande, quindi a che distanza h verticale, la sferetta colpisce la lastra. Quindi qua, tra l'altro, tipo, mi chiede una quantità assoluta. Io, in realtà, a questo punto faccio un piccolo... una piccola cosa che è... Pensare a h come il mio asse h, ok? Questo è lo 0 e quindi qua, in realtà, vado in negativi. Tuttavia, basta poi fare un volo assoluto. O, in realtà, bastava anche volendo mettere l'asse h verso il basso, non è un problema. Comunque, lungo y, lungo x ho di nuovo delle equazioni di vuoto, tuttavia a questo punto non c'è più la tensione. Quindi, ah, tra l'altro qua, prendo l'accelerazione... Vabbè, lungo y, facciamo un attimo con calma le cose. Lungo y ho solo la forza di gravità che agisce, quindi... Ho che la forza di gravità, per l'appunto, è uguale a meno m accelerazione su y. E la forza... è lungo x, dove questo qua riconosco sia la realtà g, perché l'accelerazione lungo y è g. Però poi, lungo x, ho che la forza elettrica è uguale a meno m a x, ancora una volta. Questo perché in entrambi i casi sto accelerando verso direzioni opposte ai miei assi, paradossalmente. Quindi ho scelto un sistema di riferimento un po' così, però nel senso non è un problema. Quindi, quello che faccio è scrivere le equazioni del modo. O comunque, in realtà, se qua non viene in mente di scrivere così con i meno le equazioni, non è un problema, perché tanto... Qua diventa chiaro subito se ci deve essere un meno o no. Quindi, l'equazione cos'è? Posizione iniziale più velocità iniziale per tempo, meno un mezzo accelerazione per tempo quadrato. Quindi, le velocità iniziali sono entrambe zero, quindi sono a posto. H inizialmente è a zero, per definizione, quindi così. Invece la distanza d, quindi questa asse qua, se abbiamo x, lo definisco qua, lo zero, e quindi io sono inizialmente a distanza d. Quindi il mio x, zero e d. E poi le accelerazioni sono un meno un mezzo gt quadro, che è l'accelerazione gravitazionale nell'asse y, e un meno un mezzo at quadro, dove questa è l'accelerazione dovuta alla forza elettrica, che però dipende dalla distanza, quindi devo fare un attimo attenzione. Quindi a questo punto, quello che faccio è trovo... Anzi, scusate, ho detto una cosa stupida. Non dipende dalla posizione, perché il campo elettrico è costante a priori della posizione, quindi è costante anche l'accelerazione. Altrimenti era un problema, perché non posso usare questa relazione. Quindi la cosa che faccio io è dire, a me interessa il punto di contatto, quindi la prima cosa che calcolo è il tempo che impiega a sbattere lungo quest'asse qua, visto che i moti sono indipendenti. A questo punto, trovando il tempo di impatto, se vogliamo, il tempo che impiega a percorrere questa distanza, calcolo la distanza che ha percorso verticalmente lungo quel tempo, e quindi poi posso trovare questa altezza qua. Quindi la prima cosa che faccio è che mi interessa questo asse qua, D, quindi pongo che D sia 0, per l'appunto, e vado a risalire poi al tempo T grande con cui avviene questo scontro. In particolare l'accelerazione dovuta alla forza elettrica sarà data da questa relazione qua, quindi forza elettrica diviso massa, dove la forza elettrica ricordo essere la carica per il campo elettrico, e il tutto diviso dalla massa. Quindi questa seconda equazione diventa 0, uguale a D meno mezzo a T quadro, dove A per l'appunto è questa cosa qua, e il T quadro è la mia incognita, e quindi ricavo che il tempo è, invertendo questa, e porto questo di qua, questo di qua, quindi il meno scompare, e mi rimane D, e poi riporto questo qua dall'altro lato, e quindi diventa 2D diviso A, sotto la radice, perché qua è T quadro. Dove qua volendo A la posso scrivere ancora come forma un po' più estesa, se mi interessa. E quindi seguo che l'altezza che ho percorso verticalmente sarà data da H valutato al tempo T, dove qua era 0,0, quindi banalmente è questo qua meno mezzo gt4, e quindi a me interessa il valore assoluto, come dicevo prima, perché qua l'ho preso negativo, però a me interessa alta la distanza, quindi ho un mezzo g per il tempo al quadrato, che è questa cosa qua. Quindi se lo scrivo in termini di cose un po' delle mie variabili iniziali, ho questa quantità qua. Alternativamente la soluzione usa molto... cioè, in realtà la fa sempre miglia diversa, e scrive sempre le cose in termini di tan alfa. Posso farlo anche io se osservo che, allora, tan alfa prima l'avevo ricavato come... dove c'è? Allora, tan alfa... Vabbè, comunque l'ho riscritto qua sotto. E' Q diviso mg. Quindi se io isolo la Q diviso mg, questo di fatto è 1 su tan alfa, quindi queste tre variabili diventano 1 su tan alfa, e mi rimane quindi... Vabbè, D rimane qua, e poi... Anzi, c'è il campo elettrico anche, e il campo elettrico è sigma diviso 2 epsilon 0. Quindi vedo che letteralmente tutto scompare, a parte la D, e quindi rimane D diviso tan alfa. Perché questo qua, quindi, se andiamo a riscriverlo, è... Allora, D, poi ho 2 epsilon 0 diviso sigma, che è 1 sul campo elettrico, e poi qua ho mg diviso Q, che è... cos'è? Vabbè, è l'inverso di questo qua, quindi questo riconosco essere 1 su tan alfa. Ok. A questo punto quindi posso scrivere questo qua anche così, che è una forma un po' più pulita. A questo punto chiede, con quale velocità la sferetta urta la lastra? Allora, qua c'erano in realtà diversi approcci. C'è un primo approccio energetico, che è abbastanza... tribiale, ma un pochettino lungo, quindi non l'ho fatto proprio. Però diciamo, le forze sono conservative, quindi la somma delle forze iniziali... scusate, la somma delle energie iniziali è uguale alla somma delle energie finali. Quindi le energie potenziali iniziali sono di tipo elettrico e gravitazionale, e l'energia cinetica iniziale è 0 perché parto da fermo. Dall'altra parte, l'energia elettrica finale è 0 perché vado di fatto a sbattere nel piano, e l'energia potenziale gravitazionale invece c'è, ok, quindi non è 0, e poi c'è un'energia cinetica finale, e quindi l'energia cinetica finale sarà un mezzo V quadro finale, e quindi basta poi esplicitare tutto in termini di questa cosa qua, inverto questo, faccio la radice e così via, e ottengo la velocità finale al quadrato. Cioè, se faccio la radice, la velocità finale soltanto. Quindi dovrei di fatto calcolare questa cosa qua, quindi ricordo che l'energia potenziale elettrica è data da Q per delta V, o alternativamente questa relazione qua, nel nostro caso. Quindi qua ho il fatto che il mio potenziale lo definisco a partire dalla lastra, quindi qua c'è lo 0, quindi il mio delta X è questo, e il campo elettrico è opposto, e quindi qua vedo anche che torna, perché il segno è più, perché qua è un meno dovuto al fatto che sono in direzioni opposte, e un altro meno qua davanti, quindi di fatto è il potenziale elettrico è dato da Q per D per E. Ok? Anzi, ok, sì, questo non è un differenziale. D'altra parte, quello gravitazionale è sempre MGH, quindi posso fare un po' di bilanci energetici e ottenere quindi l'energia cinetica senza troppi problemi. A questo punto, ah, tra l'altro attenzione al segno di H, perché io l'ho orientato verticalmente positivo, quindi se... Vabbè, vabbè, devo fare attenzione, tipo, l'energia finale sarà più piccola, quindi avrò che il mio delta U è minore di 0, per esempio, perché anche buonamente sono in un punto alto e vado in un punto basso, quindi contribuisco a quell'energia. E in particolare il contributo sarà proprio dato da MG, però se vogliamo H come modulo. Cioè, questo H qua è il mio H delle coordinate e non è l'H di scostamento come modulo di H. Vabbè, comunque, sicuramente sapete gestire questo tipo di conto. Detto questo, quindi, mostro anche un altro approccio, che è un approccio di tipo dinamico barra cinematico. Ora, questo approccio qua, come lo faccio? Dico che so calcolare la velocità finale, visto che conosco le accelerazioni. E in particolare, visto che ho già fatto anche abbastanza conti con questo tipo di approccio, ho fatto i conti con questo secondo approccio. Quindi il tempo di caduta è questo qua. Oltretivamente, se ancora una volta riconosco sempre che tra l'alfa è uguale a queste cose qua, vedo che qua c'ho la 2y0 sigma, che diventa un 1 su campo elettrico, e poi c'ho mq, ok? Però mi rimane la g, quindi moltiplico e divido per g. E sotto mi rimane una g qua, però qua mi rimane 1 su tan alfa. Quindi volendo il tempo lo posso scrivere anche così. A questo punto, quindi, ho due moti su due assi perpendicolari, quindi ho che la velocità lungo x è uguale a... Vabbè, le velocità iniziali sono 0 e ho meno le accelerazioni qui del tempo, ok? Perché le accelerazioni sono in direzioni opposte agli assi. Quindi, allora, la velocità lungo x sarà data da meno a t e la velocità lungo z finale... Non so perché ho fatto un attimo di confusione con gli assi. Non mi ricordo se abbiamo dei nomi. Vabbè, lo chiamo x e z, direi, in questo caso qua. Quindi la velocità lungo z è questa, dove z è verticale e x è di qua, orizzontale. Quindi, allora, l'accelerazione ricorda ancora una volta essere dovuta alla carica per il campo elettrico, ok? E ovviamente, vabbè, lo scrivo un attimo magari, allora qua... Allora, l'accelerazione dovuta al campo elettrico, cosa sarà come prima? È forza elettrica diviso massa e la forza elettrica è dovuta alla carica per il campo elettrico diviso la massa e quindi per appunto questa relazione qua. Quindi, questa qua è meno... Quindi posso scriverla anche come, se riconosco, meno tanα gt, usando il fatto che... Allora, carica per e diviso m manca solo all'agino. Quindi, moltiplico e divido per g e ottengo per appunto tanα per g. E qua c'è il meno, quindi meno tanα gt, ok? D'altra parte, vz sarà meno g per t. Quindi dt l'ho tenuto ancora un attimo in forma t, altrimenti... Al posto di cambiare così, però adesso lo cambio subito, quindi non è un problema. Quindi v cosa sarà finale? Sarà la somma in quadratura delle velocità, quindi se il mio corpo cade e sbatte qua con una certa velocità... Come posso dire? Una... La faccio in bianco. Una lungo l'asse x e una lungo l'asse z. Velocità z, velocità x. La risultante sarà da tutta la somma in quadratura, quindi faccio Pitagora. Quindi, allora, radice della somma in quadratura di vx e vz, a questo punto vx... O meglio, vz è facile perché è g quadro, t quadro, dove il tiro metto a fattore comune e lo porto fuori. Cioè, vabbè, il tiro lo vedo che c'è in entrambi, no? Quindi quando faccio al quadrato, qua mi rimane, se vogliamo, un t quadro. T quadro sotto radice, lo porto fuori e diventa soltanto t. D'altra parte, vabbè, g quadro qua diventa g quadro, i meno si cancellano perché tanto li faccio al quadrato. E poi qua sopra invece ho tangente di alfa per g al quadrato, che è la mia velocità x. Ok? A questo punto, quindi, il t lo posso esplicitare così, quindi moltiplico le radici, quindi questo qua è t. E qua mi rimane, allora, g posso mettere la fattore comune ancora, quindi ho g quadro di 1, 1 più tan alfa, quadro. Quindi mi rimane, allora, le g si semplificano, cioè, il quadrato si semplifica, e mi rimane questa espressione qua. Quindi ho 2dg per questa cosa qua, ok? 1 più tan quadro su tan quadro. Questo posso moltiplicare tan quadro qua dentro, quindi ho 1 su tan più tan di alfa, ok? A questo punto posso fare il fattore comune. In realtà, mi conviene prima passare, anche magari per questa forma, per essere più chiaro, 1 su tan, che cos'è? Coseno su seno, e tan invece è seno su coseno. Quindi, se faccio il fattore comune, ho coseno per seno, ok? E qua, in particolare, siccome moltiplico per il coseno, qua ho cos quadro, e qua, siccome moltiplico per il seno, del denominatore, ho sen quadro. Quindi cos quadro per sen quadro riconosco essere 1, perché è sempre 1, e quindi qua di fatto ho 1 su sen alfa cos alfa. Quindi questo qua lo scrivo come radice di 2dg su sen alfa cos alfa. E questa qua è la mia velocità finale. Alternativamente, per l'appunto, si poteva fare anche con questo approccio qua in mirare abbastanza tranquilla. Questo dovrebbe, direi, concludere anche questo esercizio sul campo elettrico.